Ciao a tutti, piaciuti e benvenuti in questo episodio di Xtreme Art Farm Survival Sono qui che sparo polli perché ho preso dei materiali Ho preso l'arco non incantato e un po' di frecce In realtà sono bene o male tutte le frecce che ho Eeeh... Vado, vado, mi porterò un po' di cobblestone alla volta Perché comunque conto di morire Altrimenti ce ne ecco tutta l'armatura e tutto Eeeh... ce la si fa Cioè, sono piuttosto sicuro che ce la si fa Perché noi siamo surreali su tutto un altro livello, eh Non siamo surreali come, non lo so, come Stepney, Vegas o Vrant No, noi siamo surreali a livello surreal Con... alla pronuncia esatta, non la pronuncia italiota Eeeh... che ne dici? Non dici? Va bene lo stesso Lascio anche un po' di cibo Perché tanto se muoio, muoio Vado, sto andando da parte sbagliata pure Eeeh... Eeeh... Un colpo? Un colpo? Ok Pensavo di averlo colpito Pure i Blaze? Pure i Blaze ti droghi però, eh I Blaze no Eh quello è finto I Blaze ci vuole un bordello Eh boh... eh Eeeh... E se mi hanno l'esplosione contro lo spawner? Non esplodono Sparami Non così però Sparami bene Sei un cagno bastardo Ecco qua non posso manco Deviarli L'ho colpito Allora Ecco la questione Ho pochi blocchi 20 sono pochi blocchi Se non smetti di spararmi Ti uccido La famiglia Che in questo caso Ho lo spawner Quindi è vero Chi cazzo siete? Calma E' sangue freddo Merda voi Sti colpi Calma Solo sei frecce Solo sei frecce Iolo tantissimo Ti rendi conto? Stavo saltando E cosa è successo? Che è arrivato E' arrivato il gas Pendocat Mario perché è bianco Io ero così Stavo arrivando Il professor arriva Cat Mario Pum mi butta via Ma io non lo so Cat Mario di merda Anche se è un gioco Al tuo gioco di merda Mi rompi comunque le palle Ma davvero Io non lo so Odio L'odio che prova Verso quel gioco Odio Odio Totale Mi sa che inizia a giocare a Cat Mario Solo per insultarlo Mi sa che lo faccio Mi sa che lo faccio Ok quello che dovete realizzare E' che ora non abbiamo più possibilità di colpirli I ghast Non abbiamo più l'arco Quindi l'arco non è un'opzione Se dobbiamo fare qualcosa Vuol dire Perché c'è un enderman Nel nether Vabbè Allora Se dobbiamo fare qualcosa Deve essere tutto Ben organizzato Fatto in fretta E soprattutto Fatto bene cazzo Mi son chiuso da solo Ok 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 Chiudiamo un pochino Tua zia Signora Ghast Scusi Ok A meno c'è un po' di luce E' meglio Vai spara Spara Ho failato Ho failato Non l'ho fatto apposta Ho failato Ho failato Ho failato C'ho ancora Ok Un passo alla volta Un passo Alla volta So io cosa fare Prendo giusto 4-5 pezzi di cobblestone E mi costruisco Il ponte per arrivare Giusto giusto Su quello spawner E devastarlo Ce la farò mai Ce la farò mai Lo chiamavano suicidio Sono vivo Sono vivo Sono vivo Vai Surry vai Dovrei riuscirci Allora Ho cambiato idea Quello che voglio fare E' ancora più difficile Voglio creare un tunnel Che sia completamente A prova Di ghast 100% Grandi successi Esatto Ok questa non l'avevo puntata Ad esempio No È brutta No eh No Ok 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 Ce la si fa? Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Rilassati È bruttissima Perfetto Ho finito la cobblestone che avevo preso Ma Questo è il senso Avere un tunnel Che sia completamente A prova di ghast Quanto ne stanno spawnando Boia Ma guarda Si bugano da quanti sono E vabbè Tanto mi conviene morire in realtà Perché Spera Rompo questo a mano Provo a vedere se riesco ad arrivarci Ho spawnato davanti C'è ancora qualche piccolo aggiustamento da fare Piccolissimo Ok I tizi sono Particolarmente silenziosi Dove sono? Vabbè Sono particolarmente silenziosi Quindi ne approfitto Merda 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 il fuoco Ok Ok Non morire Non morire Ti ho detto Non morire Ok No perché se riuscivo a spaccarlo a mano Ridevo fino al 2020 Tanto che ho finito la cobblestone I stichini li lascio qua Prendo 3 coin Perché tanto per ora Non vedo come poterli utilizzare E mi compro Uno stompycacs Bene Ora È il momento della verità Riuscirò O non riuscirò Nell'impresa Di distruggere Di spawner Di ghast Quanti sono? Nooo Ce la farò Ce la farò Tanto ho 30 coin 10 tentativi Anche se li finisco tutti Fotte sega Qua siamo completamente sicuro Tutto il tempo che vuoi surreal Attira lì Merda della lava Va bene Va bene Ce la si può fare Forse Per questo è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Vi dito lasciare un piace Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Ancora se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo domani alle 9 Sempre con questa serie Vediamo se riusciamo a distruggere Sti cazzo Di spawner Ciao Turut Grazie a tutti.